Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Benvenuti a questa serie che avevamo annunciato già da parecchio tempo e che ci accompagnerà per qualche settimana, con due puntate alla settimana, il venerdì e la domenica, sostituendo Imperatores per qualche settimana, e che ci porterà all'interno delle guerre di Giustiniano, cioè di quelle guerre che l'imperatore d'Oriente Giustiniano, che abbiamo raccontato nella scorsa puntata, nel suo lunghissimo regno, si trovò ad affrontare. Talvolta perché aggredito, talvolta invece nel tentativo di riconquistare, lui che si considerava ancora imperatore universale, riconquistare quello che un tempo era stato l'impero romano. Il centro di questa nostra serie sarà ovviamente l'Italia, sarà la guerra greco-gotica, una guerra che ha cambiato la storia della nostra penisola, secondo alcuni ponendo fine veramente all'età antica e facendo iniziare il Medioevo. Ma prima di raccontare quella storia, dobbiamo introdurre le altre guerre, perché la guerra greco-gotica credo sia realmente comprensibile solo se inserita all'interno di tutti gli altri scontri che videro Giustiniano scontrarsi contro i Sasanidi, ma anche contro i Vandele, alla fine anche con i Visigoti, anche se a quest'ultima parte non dedicheremo una puntata in sé, perché l'abbiamo già raccontata nella puntata dedicata proprio a Giustiniano. Questa serie, che è un po' un corollario alla serie di Imperatores, che appunto sostituisce per qualche settimana, ci narrerà probabilmente dell'ultimo vero tentativo di rimettere insieme l'Antico Impero, l'ultimo tentativo di ridare a tutto il Mediterraneo un'unità politica, questa volta non più governato da Roma, ma governata da Costantinopoli, l'ultimo tentativo di riportare in vita quello che un tempo era stato l'impero romano nella sua piena magnificenza. Un tentativo che, come vedremo, si scontrerà contro tanti problemi. È una storia affascinante, è una storia fatta di personaggi generali, politici, pensate solo a Belisario, a Narsete, è fatta di avversari, pensate a Totila, pensate ai Vandali, è una storia che secondo me merita di essere raccontata. Fatemi fare prima di iniziare un ringraziamento ad Alfonso Laveglia, che mi fornisce le immagini per Imperatores, immagini che utilizzerò ovviamente in gran parte anche in questa e nelle prossime puntate. Come vi dicevo, vi accompagnerò per qualche settimana prima di tornare ad Imperatores, ma appunto iniziamo dalla prima guerra intrapresa da Giustiniano, peraltro anche la prima in cui iniziamo a conoscere un personaggio che credo molti di voi abbiamo già sentito nominare, cioè Belisario, cioè la cosiddetta guerra iberica. La guerra che in realtà Giustiniano ereditò dal suo predecessore Giustino, che lo vide per la prima volta contrapporsi all'Impero Sasanide. E vedrete, sarà una guerra quasi medievale, perché sarà una guerra fatta di fortezze, assedi e di tentativi di conquistarle. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Durante la serie Imperatores, se l'avete seguita fino a questo momento, avete visto l'Impero Romano scontrarsi contro una marea di nemici, nemici interni, rivolte, barbari provenienti dalla Germania, altri provenienti invece dalla zona danubiana, ma c'è una zona, un'unica zona, che per Roma ha rappresentato quasi ininterrottamente un problema militare, perché era l'unica parte delle sue lunghissime frontiere in cui si trovava a condividere quella frontiera con un Impero grande, se non quanto il suo, quanto meno che gli si poteva avvicinare. Man mano che Roma si espandeva, quando ancora era una Repubblica, negli ultimi anni della Repubblica si espandeva verso est, verso il vicino Oriente, un altro Impero faceva la stessa cosa nell'altra direzione, quello dei Parti, e ben presto i due Imperi si avvicinarono e, come spesso capita, due Imperi in fase di espansione si scontrarono. Uno scontro che inizialmente vide vincitori i Parti, pensate alla battaglia di Carre, in cui Crasso aveva perso la vita, ma che poi portò ad una serie di campagne che videro progressivamente Roma riuscire a spostare il confine dello scontro verso est, principalmente in due regioni, la Mesopotamia, che per lungo tempo fu anche provincia romana, e a nord attraverso l'Armenia, un regno teoricamente indipendente, ma che progressivamente era caduto sotto il controllo di una o dell'altra fazione, fino ad essere spartito. I Parti, quando inizia la nostra storia, non sono però più lì, perché sono stati sostituiti da un altro popolo, forse ancora più aggressivo di loro, cioè i Sasanidi, che approfittando della loro crisi avevano conquistato il loro Impero, lo avevano sostituito con un altro Impero e si erano sostituiti ai Parti come nuovi nemici di Roma, scatenando una nuova serie di guerre che abbiamo visto accompagnare l'Impero Romano in tante puntate di Imperatores. All'epoca dell'Imperatore Giustino, però, per molto tempo c'era stata pace. L'ultimo grande scontro era stato nel 438 d.C., quando, ai tempi dell'Imperatore Teodosio II, i Sasanidi avevano attraversato la frontiera e lo scontro si era rinnovato. Uno scontro che alla fine non aveva avuto né vincitori né vinti, a tutti gli effetti il confine non si era mosso più di tanto, uno scontro che era nato per motivazioni religiose, a causa delle comunità cristiane presenti nell'Impero Sasanide che si ribellavano ai tentativi di conversione forzata da parte dei Sasanidi, che erano zoroastriani, uno scontro che alla fine aveva portato ad un trattato di pace che stranamente aveva retto. Un trattato di pace che si basava su un assunto principale, non solo il mantenimento dei territori conquistati fino a quel momento, ma soprattutto la promessa di non fortificare i confini. Perché questa importanza delle fortificazioni? Lo vedremo poi nel corso della puntata di oggi. Perché i territori come quello delle montagne dell'Armenia, o ancora di più la Mesopotamia, con i grandi deserti tra l'attuale Siria e l'Iraq, erano territori che mal si prestavano a grandi campagne, perché ovviamente era difficile procurarsi rifornimenti, di mantenere eserciti grandi, e quindi era fondamentale per il controllo del territorio costruire delle fortezze, fortezze che permettessero di fermare gli eserciti in avanzata, che ovviamente non potevano andare oltre per non rischiare di essere presi tra due fuochi, dare tempo a chi si difendeva di chiamare un nuovo esercito e di affrontare quello invasore per annientarlo. Queste fortezze erano state il centro della difesa, sia da una parte che dall'altra, e la promessa teoricamente reciproca di non costruire nuove fortezze e non espandere quelle già esistenti in qualche modo assicurava che ci potesse essere pace, perché se non si aveva la possibilità di controllare il proprio territorio, ancora più difficilmente si sarebbe potuto invadere quello dell'avversario. Da questo momento la pace resse per più di 50 anni. Non sappiamo se resse per questo trattato, resse per la buona volontà dei governanti, è molto più facile che resse perché entrambi gli imperi avevano altri interessi. L'impero romano, siamo nel 438, quando finisce la guerra di Teodosio II, da questo momento in poi avrà molti problemi verso Occidente per cercare di salvare i salvabili in Occidente, e sappiamo benissimo che non ci riuscirà. Dall'altra parte, anche i Sasanidi avranno grossi problemi, perché se l'impero romano si troverà a scontrarsi contro gli Unni di Attila, altri Unni, i cosiddetti Unni Bianchi o Eftaliti, che erano invece rimasti nella zona oriente del Mar Caspio, più volte invaderanno i territori dei Sasanidi, costringendoli a cedere dei territori, pagare ingentissimi tributi, ad un certo punto mettendo addirittura l'intero impero Sasanide sotto la loro protezione, e quindi dando altro a cui pensare ai Sasanidi. È curioso che questo problema fosse avvenuto in contemporanea, perché se vogliamo, se uno dei due contendenti fosse stato in grado di combattere durante quei 50 anni, avrebbe forse colto l'altro talmente in difficoltà da porre fine alla guerra. E invece non era stato così. Entrambi avevano vissuto un lungo periodo di scontri, entrambi, più o meno nello stesso momento, tornarono a potersi occupare della guerra. Era quella guerra che potremmo quasi definire eterna, che all'inizio, che ormai durava da più di sei secoli, e che stava per tornare a travolgere l'Oriente e l'Occidente. Questo stato di cose si era però rotto nel 502 d.C., prima dell'inizio del regno di Giustiniano, quando ancora regnava l'imperatore Anastasio, che, se ricordate, abbiamo raccontato nella prima puntata di Imperators di quest'anno. Ora, l'imperatore Anastasio, lo abbiamo raccontato in quella puntata, aveva in realtà molti problemi diversi da quello di attaccare i Sasanidi. Ma, agli iniziare quella guerra, dopo tutti quegli anni, quasi 70 anni, fu invece l'imperatore Sasanide, Cavad I. Abbiamo raccontato di come i Sasanidi fossero stati per lungo tempo sotto la minaccia degli Unni. Bene, Cavad tutto questo lo aveva sentito, provato anche sulla propria pelle, perché non solo il padre era stato ucciso proprio dagli Unni durante un combattimento, ma lui stesso, durante una guerra precedente, dopo che il padre era stato sconfitto dagli Unni e non era stato in grado di pagare tutto il pesantissimo tributo che questi avevano richiesto, lui stesso, lo stesso Cavad ancora bambino, era stato mandato come ostaggio presso la corte degli Eftaliti. Tornato in patria, dopo la morte del padre, dopo l'alternarsi di altri sovrani, era stato posto sul trono, quando era ancora solo un ragazzino. Un trono che, almeno inizialmente, altri avevano governato per lui. Quando finalmente aveva raggiunto la maggior età, aveva però deciso di prendere il controllo del trono e si era reso conto che il regno che si trovava a governare era in pessime condizioni, perché non solo gli Unni continuavano a spadroneggiare, non solo le casse erano vuote, ma le grandi famiglie nobili, le sette grandi famiglie nobili persiane, mantenevano non solo il potere sulla terra, ma anche il potere su buona parte dell'esercito, che veniva richiamato proprio grazie al loro intervento. Per cercare di strappare loro questo potere, Cavadde aveva deciso di legarsi ad un profeta, un profeta zoroastriano chiamato Mazdak, il quale diffondeva la sua dottrina, secondo la quale tutto il popolo avrebbe dovuto, in qualche modo, mettere in comunione le proprie sostanze. Lui diceva che bisognava mettere in comunione anche le donne, tanto per esagerare, ma il senso era che tutti dovevano avere le stesse cose, dovevano essere messi in comunione le terre, in comunione il denaro, e in questo modo strappare potere che invece era saldo nelle mani della nobilità. Se Cavadde credesse veramente a queste teorie, oppure no, non è dato a saperlo, ma probabilmente aveva deciso di cavalcare questa idea, questo profeta, perché grazie alla presa che lui aveva sulle masse poteva in qualche modo giustificare la sua presa di potere nei confronti dei nobili, togliendo potere ai nobili non per darlo alle masse, ma per concentrarlo nelle sue mani. Fece però i conti molto male, fece però i conti molto male perché i nobili di perdere quel potere non avevano nessuna intenzione, e così lo scacciarono, lo mandarono in prigionia e al suo posto misero invece il fratello. In prigionia Cavadde non ci rimase molto. C'è una bellissima leggenda che dice che riuscì a scappare grazie alla sorella che era andata a trovarlo, aveva portato con sé un tappeto e lo aveva avvolto nel tappeto facendolo portare via. E quando le guardie le avevano chiesto che cosa ci fosse dentro per poterlo controllare, lei aveva detto che aveva avuto le sue mestruazioni durante la visita al fratello e che aveva macchiato quel tappeto e quindi lo portava via per poterlo lavare. Come tanti uomini anche le guardie furono disgustate della cosa e quindi riuscirono a far passare. Vera o falsa che fosse ovviamente questa leggenda, in realtà Cavadde riuscì a liberarsi. Andò dagli Unni che gli fornirono un esercito, ovviamente dietro la promessa di altri pagamenti, altre terre e con quell'esercito Cavadde era riuscito a riprendere il controllo del suo trono facendo accecare il fratello e uccidendo tutti i nobili che lo avevano destituito. Una volta tornato al potere, Cavadde però si era trovato un problema. Quegli Unni, quegli Unni che andavano pagati e che non si accontentavano delle terre, volevano del denaro. E a chi poteva chiedere del denaro Cavadde? Poteva chiederlo al suo vicino, l'imperatore Anastasio, con cui, ripeto, le redazioni erano abbastanza buone da quasi 70 anni. Quando però Anastasio ricevete la richiesta di denaro di Cavadde, decise di rifiutare. Cavadde avanzò quella richiesta dicendo che ormai da tanto tempo i Sasanidi difendevano le cosiddette Porte Caspie o Porte di Alessandro, che sono una serie di fortificazioni che si trovano a nord del Caucaso, non è ben chiaro, ci sono state identificate in varie zone, che secondo la tradizione sarebbero state costruite addirittura da Alessandro Magno, più probabilmente furono costruite proprio dai Sasanidi, e che servivano ad impedire il passaggio di popolazioni dal nord del Caspio verso sud. I Sasanidi rivendicavano di difendere quella zona e che in questo modo proteggessero anche l'impero romano da eventuali invasioni e dicevano che i romani o dovevano contribuire anche loro alla difesa o dovevano pagarli. Anastasio rifiutò perché probabilmente qualcuno della sua corte gli disse pagare il tuo nemico può non essere una grande idea e la risposta di Cavalder era stata quella di iniziare una battaglia contro i romani che alla fine dopo cinque anni di guerra a causa anche dell'intervento di popolazioni che erano entrate all'interno dell'impero Sasanide si risorse con un nulla di fatto. Un nulla di fatto che però aveva fatto capire ad Anastasio che difendere il territorio romano senza le fortezze era impossibile e se voleva veramente evitare una nuova guerra doveva stracciare o quantomeno far finta di non considerare gli accordi che erano stati siglati da Teodosio II e costruire due nuove fortezze o meglio tante nuove fortezze due principali e queste due fortezze principali che sono importanti anche per la narrazione della guerra che sconvolgerà l'impero invece sotto Giustiniano saranno Teodosiopoli che oggi si chiama Erzurum si trova nella Turchia orientale e che si arriva a difendere il fronte armeno e più a sud invece Dara che era una fortezza fondamentale costruita a pochissima distanza da un'altra fortezza cioè Nisibis ora Nisibis anche questa l'abbiamo sentita nominare durante la storia dell'impero era una città per cui romani e parti e poi romani sasanidi avevano lottato per tantissimo tempo una città che era stata riconquistata varie volte dai romani che gli avevano creato una grande fortezza che per lungo tempo era stato il centro della difesa romana della zona della Mesopotamia che i sasanidi avevano assediato una marea di volte senza riuscire a conquistare ma che alla fine i romani avevano dovuto cedere dopo che Giuliano l'imperatore Giuliano l'apostata come normalmente conosciuto era morto durante la sua campagna contro i sasanidi e il suo successore Gioviano che aveva molti più interessi a rientrare verso Costantinopoli aveva deciso di cedere il dominio di quei territori ai sasanidi in cambio della pace il risultato è che Nisibis era diventato il nuovo fulcro della difesa sasanide della zona e i romani fortificarono l'antichissimo villaggio di Dara a pochissima distanza da Nisibis proprio per controllarsi vicendevolmente inutile dire che la cosa ai sasanidi non piacque per niente ad ogni modo nonostante questa palese violazione da parte di Anastasio la guerra non ricominciò anche perché i sasanidi erano nuovamente impegnati contro gli Unni comandarono queste campagne non lo sappiamo quasi nessuno ce l'è venuto a raccontare anche se molto probabilmente i sasanidi riuscirono finalmente a sconfiggere gli Unni o quantomeno a limitarne molto il potere perché a tutti gli effetti da quel momento in poi il problema si presentò molto meno spesso e i sasanidi ebbero molta più libertà d'azione le cose cambiarono però alla morte di Anastasio come abbiamo raccontato nella seconda puntata di Imperatore di quest'anno alla morte di Anastasio a succede gli era stato l'imperatore Giustino Giustino non era parente di Anastasio che di parenti ne aveva aveva tre nipoti che però non erano stati presi in considerazione per la successione ma era semplicemente l'uomo giusto al momento giusto capo delle guardie dell'imperatore degli excubitores coloro che teoricamente dormivano fuori dalla stanza dell'imperatore ovviamente voleva dire le guardie dell'imperatore e che grazie alla sua posizione e anche grazie ai maneggi del nipote cioè il futuro Giustiniano nipote figlio adottivo scegliete voi il futuro Giustiniano era riuscito a diventare imperatore la cosa aveva dato un po' di pensieri a Cavad secondo quanto ci racconta Procopio di Cesarea che diciamolo è una delle principali fonti di quasi tutto quello che vi racconterò durante questa serie ma ogni tanto va preso un po' con le molle perché tende a raccontare le cose in maniera un po' epica ma questo lo fanno spesso gli storici romani e ogni tanto è troppo gentile nei confronti di Belisario di cui dopo tutto era assistente e con cui visse quasi tutte queste guerre ma ripeto magari alla fine di questa serie voglio dedicare almeno una peristoria proprio Procopio di Cesarea per una volta che avete visto tutta la storia che ci ha raccontato fare anche un po' il quadro di chi sia lui vedremo vedremo alla fine di questa serie ad ogni modo secondo quanto ci racconta Procopio quando Cavad seppe del modo in cui era stato scelto successore di Anastasio si fece venire qualche dubbio su chi sarebbe stato suo successore perché Cavad in effetti di figli maschi ne aveva ma aveva un figlio primogenito che riteneva del tutto inadatto a comandare un figlio secondogenito che sarebbe stato forse adatto a comandare e che pare fosse anche un ottimo generale ma che durante un combattimento aveva perso un occhio e secondo quanto ci racconta Procopio di Cesarea la cosa era considerata una sfortuna non si poteva avere un sovrano con delle menomazioni fisiche probabilmente non voleva neanche questo secondo figlio ma la sua scelta era ricaduta sul terzo figlio cioè Cosroe il problema è che Cosroe appunto come terzo genito non godeva di così tanto appoggio e il timore di Cavad era che morto lui i nobili avrebbero nominato chi a loro facesse più piacere per cercare di ovviare al problema dopo aver sentito alcuni dei membri della sua corte a lui fedeli aveva deciso di inviare una lettera a Giustino il nuovo imperatore chiedendogli di adottare Cosroe l'adozione non avrebbe ovviamente comportato che Cosroe sarebbe diventato romano si sarebbe trasferito nell'impero e lasciato l'impero sasanide ma grazie a questo legame di sangue con l'imperatore romano avrebbe dato a Cosroe abbastanza potere all'interno dell'impero sasanide per assicurarsi la successione Giustino pare che ci pensò e per un certo periodo fu anche propenso ad accettare l'idea forse con l'idea di mantenere la pace tra i due imperi ma qualcuno alla corte gli fece notare che neanche Giustino aveva un erede ben chiaro sì aveva Giustiniano che era nipote era stato adottato come figlio ma ovvio non vi era una successione direttissima e nel caso in cui Cosroe fosse stato a sua volta adottato da lui avrebbe potuto rivendicare il trono romano e se la cosa avrebbe portato alla pace immediata avrebbe però potuto poi portare una guerra dopo la morte di Giustino proprio tra Cosroe e Giustiniano e per questo Giustino chissà forse imbeccato anche dal nipote decise di rifiutare ora Procopio ci dice che la motivazione per cui Cavad a questo punto decise di dichiarare nuovamente guerra all'impero fu questa la cosa è se vogliamo abbastanza disputata perché non sembra essere questo gigantesco affronto per cui possa portare una guerra è molto più probabile che i problemi di Cavad fossero altri innanzitutto erano le fortezze che Giustino così come aveva fatto Anastasio continuò a rafforzare convinto che senza quelle fortezze la sicurezza dell'impero non sarebbe stato possibile mantenerla il secondo problema furono gli Iberi che erano un popolo che viveva nell'Iberia non la penisola iberica non in Spagna ma per intenderci nella parte centrale dell'attuale Georgia lo state vedendo sulla cartina i quali vivevano all'interno dell'impero Sasanide ma erano cristiani ora Cavad esattamente come molti altri suoi successori per cercare di dare stabilità religiosa all'impero aveva più volte cercato di convertire a forza queste popolazioni e durante quegli anni aveva deciso di forzare loro la mano per cercare di spingerli a diventare zoroastriani per questo nel 524 quindi circa 4 anni dopo la richiesta di adottare Cosroe capite che anche dal punto di vista temporale passano troppi anni perché quella fosse stata la vera causa della guerra ad ogni modo nel 524 525 gli Iberi si ribellarono a lui il loro sovrano chiese aiuto a Giustino che promise di mandare degli aiuti che però non arrivarono in tempo e quando arrivò l'esercito sasaride gli Iberici sconfitti gli Iberi chiedo scusa sconfitti abbandonarono le loro terre e si spostarono lungo la costa nei territori della Lazica che anche qui più o meno siamo nella parte costiera dell'attuale Georgia territori che ricadevano in parte sotto il dominio sasaride e in parte sotto il dominio romano inutile dire che l'appoggio che i romani avevano dato a questi ribelli non venne ben visto e vuoi per quello vuoi per le fortezze mettiamoci anche per la mancata adozione di Cosroe la guerra scoppiò e il nome ovviamente fu quello di guerra iberica con cui tutto questo conflitto è ricordato la prima fase del conflitto è chiaramente favorevole ai sasanidi ai persiani chiamateli come volete innanzitutto entrambi i popoli in una prima fase cercarono di farsli fare scatenare i popoli loro alleati ad esempio gli arabi vi erano varie popolazioni arabe che vivevano nei margini settentrionali dell'attuale penisola arabica alcuni però che avevano anche il controllo di zone dello Yemen e la loro fedeltà andava ora una ora all'altra impero in particolare due popolazioni i lachmidi che vivevano nella parte più nord orientale dell'attuale penisola arabica quindi nella zona del Kuwait del sud dell'Iraq e i gassanidi che invece vivevano nella parte nord occidentale della penisola arabica quindi poco sotto l'attuale Israele Giordania questa zona lì questi due popoli uno fedele ai sasanidi i lachmidi e uno fedele ai romani i gassanidi iniziarono a scontrarsi fra di loro ma soprattutto iniziarono a razziare le terre dei rispettivi contendenti Giustino decise di inviare due generali per cercare di portare la calma nella zona dell'Armenia e per questo scelse due giovanissimi generali presi dalla sua guardia del corpo uno si chiamava Sitta e l'altro si chiamava Belisario ora Belisario sarà il protagonista quasi principe di tutta questa serie ripeto lo conoscete benissimo e proprio durante queste guerre ebbe per quanto ne sappiamo il battesimo del fuoco è possibile che avesse già partecipato ad altri scontri in passato ma il suo nome inizia a diventare noto in questa fase quando viene mandato nel 526 in Armenia era in effetti giovanissimo aveva appena 26 anni si stima che sia nato intorno al 500 era nato nella zona dell'attuale Bulgaria e da una famiglia romanizzata che parlava latino se avete seguito la serie imperatore scapirete perché questo sia importante una famiglia molto probabilmente di origine lirica o traccia e come tanti all'interno della sua famiglia di quelle zone aveva fatto carriera all'interno dell'esercito diventando appunto una delle guardie del corpo di Giustino per questo era stato promosso tra virgolette ed era stato mandato a combattere insieme a Sitta ed insieme alle prime truppe romane mandate a supportare gli Iberi come vi dicevo però prima questo tentativo da parte di Giustino arrivò troppo tardi quando ormai gli Iberi avevano lasciato le loro terre e si erano spostati nella Lazica e l'unica cosa che le truppe di Belisario e di Sitta poterono fare fu di condurre una serie di razzie in territorio sasanide che secondo Procopio di Cesarea riuscirono a portare molti prigionieri molto denaro ma che dal punto di vista militare grossi risultati non le fecero anche perché una seconda razza romana una volta arrivato il grosso esercito sasanide venne facilmente respinta anche il tentativo romano che era scattato anche lì nel 526 di catturare la fortezza di Nisibis venne respinta e le due fortezze quella di Nisibis e quella di Dara ripeto vicinissime distanti appena 18 chilometri l'una dall'altra continuarono a guardarsi in Cagnesco controllando il confine tra i due territori nel 527 alla morte di Giustino gli era però succeduto Giustiniano il quale come abbiamo raccontato domenica scorsa aveva probabilmente ben altri interessi che questa guerra e che decise quindi di chiuderla il più in fretta possibile come? beh inviando nuove truppe in Oriente e soprattutto inviando nuovo denaro che doveva servire a creare delle fortezze i due giovani generali che erano stati mandati da Giustino vennero quindi divisi Sitta divenne magister militum per Armenia quindi comandante delle truppe che avrebbero dovuto difendere l'Armenia romana e se possibile contrattaccare contro quella sasanide una carica che fino a quel momento nessuno aveva mai creato dato la secondarietà della zona ma che ci fa capire quanto Giustiniano avesse capito che la zona dell'Armenia potesse diventare importante negli scontri tra i due imperi Belisario invece venne mandato a sud nella zona della Mesopotamia diventando dux Mesopotamie quindi comandante delle truppe in Mesopotamia ufficialmente sottoposto però al governo al comando del magister militum per orientem che era Ipazio uno dei tre nipoti di Anastasio in questa fase però i sasanidi continuarono ad avere la meglio se in Armenia gli scontri per un po' di tempo si quietarono anche grazie alla presenza delle nuove truppe romane a Teodosiopoli a sud invece i sasanidi nel 527 e nel 528 riuscirono a cogliere due pesanti battaglie nei confronti dei romani entrambe le volte attaccando delle fortezze in costruzione ed entrambe le volte riuscendo ad annientare l'esercito romano che era giunto il loro soccorso di queste due sconfitte quella più pesante fu quella davanti alle mura di Tannuris fortezza situata più a sud che avrebbe teoricamente se completata permesso ai romani di controllare anche la via che dalla zona della Mesopotamia portava verso la Siria il controllo di quella fortezza sarebbe stato importantissimo e questo lo sapevano anche i sasanidi che proprio nel 527 avevano iniziato l'assedio l'arrivo dell'esercito romano lo aveva interrotto ma il generale sasanide aveva preparato accuratamente il terreno prima dello scontro creando una serie di trincee di terrapieni di trappole coperte e grazie a questo terreno preparato era riuscito a sconfiggere le forze romane che erano più numerose ma erano anche peggio guidate il risultato era stata una sconfitta epocale una sconfitta che aveva fatto perdere grandi numeri di truppe all'esercito romano all'esercito bizantino una sconfitta che aveva costretto quel che rimaneva dell'esercito ad abbandonare Tannuris e ritirarsi verso Dara con l'unica parte che era riuscita a ritirarsi quasi intatta la cavalleria guidata da Belisario il secondo scontro che invece avvenne vicino alla fortezza di Mindowos fu altrettanto una sconfitta romana un'altra sconfitta un'altra fortezza in costruzione caduta un'altra volta in cui Belisario riuscì a ritirarsi uno tra i pochi ad essere incolomi ora se Belisario ha posse veramente non colpevole di questi avvenimenti come ci racconta Procopio di Cesarea che però fa un po' di confusione perché mette insieme le due battaglie le descrive come fosse una battaglia sola insomma su questo non è molto credibile ovviamente non lo sappiamo secondo altri autori Belisario era compartecipe della sconfitta insieme a tutti gli altri generali e il motivo per cui era riuscito a ritirare la sua parte era perché era quasi sempre al comando della cavalleria e ovviamente quella aveva più facilità nella fuga e questo non deponeva neanche troppo per il suo valore fatto sta che all'epoca probabilmente anche altri valutarono le sue colpe come minime tanto che dopo aver eliminato gli altri generali considerati non adatti al comando Belisario sarà nominato nuovo magister militum per l'Oriente la domina sicuramente era un grande onore ma arrivava in un anno il 530 d.C. in cui le cose sul fronte si fecero molto difficili per i romani perché i sasanidi ripeto approfittarono delle due vittorie raccolte negli anni precedenti decisero di lanciare una grande offensiva una a nord in Armenia e una a sud mirando ovviamente alle due fortezze principali ora l'attacco a nord quello portato contro Teodosiopoli fu in realtà un attacco molto più debole rispetto a quello a sud le forze sasanidi circa 25.000 uomini cercarono di attaccare la città città che Sitta magister militum per l'Armenia riuscì però a difendere molto facilmente mantenendo una piccola guarnigione all'interno della città stessa facendo uscire prima dell'arrivo dei sasanidi circa 15.000 uomini e dopo che i sasanidi si furono installati per iniziare l'assedio attaccandoli su un fianco prendendoli tra due fuochi con le truppe della guarnigione che invece erano uscite dalla fortezza e in questo modo riuscendo a dagnentarli riprendendo pienamente il controllo della regione e addirittura riuscendo a conquistare altre fortezze nella Lazica e poi nell'Armenia persiana un po' grazie a delle vittorie un po' anche grazie al tradimento di alcuni generali persiani che decisero di lasciare il lato sasanide per passare come nuovi generali sotto l'impero romano non sappiamo se a causa di sconfitte o perché pagati ma la cosa in effetti permise ai romani di espandere il loro dominio a nord a sud nella zona della Mesopotamia però le cose furono molto più difficili l'esercito che i sasanidi inviarono per conquistare Dara era secondo le fonti composto da 40.000 o addirittura 70.000 uomini che dopo il primo giorno di assedio saranno rafforzati da altri 10.000 uomini provenienti dalla vicina cittadina di Nisibis Belisario dalla sua di uomini ne aveva molti meno circa 25.000 in massima parte bizantini romani ma con lui c'era anche della cavalleria unna c'erano degli arabi gassanidi c'erano addirittura pensate degli isaurici ve li ricordate quelli provenienti dall'isauria quelli che avevano appoggiato l'imperatore Zenone che proveniva anche da lì insomma una truppa molto eterogenea Belisario arrivò ovviamente a Dara per primo dopo tutto quella era la sua sede e anche se non sappiamo il motivo decise di non aspettare all'interno della città ma di aspettare l'esercito sasanide al di fuori ora Dara era una fortezza già di per sé molto interessante anche prima che venissero costruite le mura era un villaggio antichissimo si stima che addirittura fosse stato creato 10.000 anni prima di Cristo ma un villaggio che era sempre rimasto abbastanza piccolo fino a quando proprio Anastasio non aveva deciso di trasformarlo in una fortezza la motivazione ripeto era ambientale Dara sorge su alcune colline che la chiudono come una specie di cintura da tre lati e l'unico sbocco da cui un esercito può attaccarlo è verso sud verso la pianura uno sbocco su cui ovviamente Belisario si andò a disporre prima che arrivassero i sasanidi preparò il campo di battaglia e per restituire quella medicina che i romani avevano subito negli anni precedenti creò anche lui una serie di trincee una serie di trappole per prevenire l'attacco nemico il primo giorno ci sono solo delle piccole scaramucce ma il secondo giorno i due eserciti si dispongono in maniera praticamente speculare e ovviamente si danno battaglia i sasanidi sono i primi ad attaccare il loro primo attacco si concentra contro il lato sinistro dei romani quindi l'ala destra dei sasanidi aggredisce l'ala sinistra romana ma Belisario che aveva previsto questo attacco fece leggermente arretrare la sua ala e quando i sasanidi si furono leggermente allungati fece piombare su di loro dai due lati la cavalleria unna che aveva tenuto al centro e soprattutto un gruppo di cavalieri eruli che aveva nascosto dietro una collina questo unito al contrattacco dell'ala sinistra romana riuscì a mettere in fuga i sasanidi mentre tutto questo avveniva però il generale sasanide per cercare di rompere anche da un'altra parte le forze romane contando ovviamente sulla sua superiorità aveva deciso di concentrare grosso delle sue forze soprattutto le migliori i cosiddetti immortali la guardia scelta dell'imperatore sasanide il nome ovviamente derivava dagli antichi immortali persiani concentrarli contro il fianco destro romano che di fronte all'urto di queste truppe più numerose probabilmente anche meglio addestrate fu costretto a retrocedere permettendo così ai sasanidi di avanzare e di circondare centro romano dove si trovava lo stesso belisario a questo punto però il generale invece di tamponare quella falla la trasformò in un'opportunità perché prese il centro rafforzato da alcuni dei soldati dell'ala sinistra che ormai aveva vinto il suo scontro e lo lanciò con tutta forza verso il punto in cui il centro sasanide e la sua ala sinistra quella che stava avanzando si univano questo unito al fatto che l'esercito sasanide si stava sfilacciando nell'avanzata perché un'ala retrocedeva e l'altra avanzava permetterà ai romani di dividere le forze sasanidi e una volta divise affrontarle separatamente e annientarle la vittoria di Dara fu ovviamente una grande vittoria che rese belisario uno dei generali più apprezzati alla corte di costantinopoli e costituirà una delle sue prime grandi vittorie ma nonostante le richieste romane che subito dopo la battaglia mandarono dei delegati al cospetto del sovrano sasanide per cercare di trattare una pace la pace ancora non giunse il sovrano sasanide infatti avanzò delle richieste che i romani non potevano mantenere chiese la distruzione della fortezza di Dara il ripristino dell'accordo precedente chiese anche la restituzione di tutte le fortezze che erano state conquistate da Sitta in Armenia e in Lazica insomma chiedeva ai romani di perdere una guerra che invece in quel momento era in pareggio nel 531 dato che la pace non era stata raggiunta i sasanidi quindi decisero di tornare all'attacco questa volta invece di puntare contro la fortezza di Dara su consiglio come ci dice Procopio di Cesarea dei loro alleati lacminidi decisero di lanciare una campagna che passasse più a sud seguendo il corso delle Eufrate piombasse sulla Siria dove si sapeva che c'erano meno fortezze città importanti come Antiochia ma meno fortezze da poter catturare e in questo modo mettere in crisi l'intero schieramento difensivo romano ancora una volta Belisario però capì quello che era la minaccia sasanide circa 15.000 sasanidi rafforzati da contingenti lacmini seguirono il corso delle Eufrate e si spostarono verso la costa vicino a Gabala che era una cittadina che si trova a sud di Laodicea quindi siamo sulla costa dell'attuale Siria per capirci i due eserciti arrivarono vicini allo scontro Belisario che aveva a disposizione più truppe quando si rese conto che con il suo esercito poteva bloccare il passaggio ai sasanidi senza più farle avanzare decise di non attaccare battaglia i sasanidi a questo punto in possibilità di avanzare decisero di ritirarsi e Belisario per molti giorni si limitò a seguire la loro ritirata prima verso le Eufrate e poi sempre più verso sud e verso est arrivati però nei pressi della cittadina romana di Callinicum che sorgeva proprio sulle Eufrate secondo quanto ci racconta Procopio di Cesarea l'esercito e i comandanti a servizio di Belisario chiesero di poter attaccare battaglia Procopio ci tramanda che Belisario fosse contrario che addirittura tende un discorso di fronte alle truppe dicendo loro che non aveva senso combattere perché la battaglia la guerra in quel modo era vinta erano riusciti a ottenere il risultato che volevano cioè ricacciare indietro i Sasanidi senza uno scontro perché dovevano rischiare tutto in una battaglia ma pare che i suoi uomini i suoi comandanti la pensassero diversamente alla fine Belisario per non rischiare di essere eliminato dai suoi stessi uomini accettò di attaccare i Sasanidi se la cosa è avvenuta così o meno ovviamente non lo sappiamo è possibilissimo che l'idea di attaccare fosse stata di Belisario e fosse in effetti stato un errore ancora una volta i due eserciti si disposero uno di fronte all'altro in maniera assolutamente speculare entrambi i generali avevano concentrato le loro truppe nella parte centrale entrambi avevano schierato la propria fanteria sul fianco sinistro romano quello destro dello schieramento Sasanide entrambi avevano concentrato i loro alleati invece dall'altra parte quindi sul fianco destro romano quello sinistro per i persiani ancora una volta il fianco destro romano fu quello che fece cambiare la battaglia i Sasanidi infatti decisero di concentrare il loro attacco su questa zona esattamente come era stato nella battaglia di Dara concentrando in questa zona le loro truppe migliori che però questa volta riuscirono ad avanzare molto più rapidamente perché le forze Gassanidi così ci racconta Procopio invece di tenere il posto difendere in attesa dell'arrivo dei rinforzi vennero date e si diedero alla fuga lasciando gli Saurici che invece continuarono a combattere da soli ad essere annientati questa volta l'esercito Sasanide però non si era sfilacciato come era avvenuto ad Ara e questo costrinse Belisario a dover rincalzare retrocedendo facendo retrocedere la propria fantecavalleria verso il fianco sinistro dove aveva concentrato la fanteria non potendo andare in aiuto al suo fianco destro a questo punto i Sasanidi lanciarono l'attacco generale senza più la cavalleria e i romani non sembravano essere in grado di difendersi tanto più che alcuni reparti dell'esercito già si stavano dando alla fuga attraversando le uffrate per stabilirsi su alcune isole dove pensavano di avere salvezza ma Belisario decise di far compattare tutti i suoi uomini creando una specie di gigantesca falange che ovviamente grazie alle lance riuscì a respingere la cavalleria Sasanide che non riuscì in nessun modo ad affrontare quella falange eppur riuscendo ad infliggere gravi danni all'esercito romano soprattutto i reparti che si erano dati alla fuga non riuscì a sconfiggerli e alla fine anche i Sasanidi ebbero perdite molto pesanti chi vinse la battaglia è difficile dirlo possiamo dire che la vinsero i Sasanidi perché riuscirono ad impedire ai romani di intercettare realmente l'esercito ma anche i romani riuscirono a salvare quasi tutto l'esercito anche perché durante la notte i cittadini di Callinicum portarono delle chiatte vicino all'esercito imbarcandoli e portandoli in città in realtà la battaglia venne probabilmente considerata persa da entrambi gli imperatori perché sia Belisario che il generale Sasanide si videro togliere il comando Belisario finì addirittura potremmo dire davanti alla corte marziale venne istituita una commissione per valutare il suo operato e anche se fu scagionato gli fu però tolta la carica e fu mandato a Costantinopoli la cosa vedremo nella prossima puntata in qualche modo gli sarà favorevole perché lo farà trovare a Costantinopoli durante la rivolta di Nica ne parleremo meglio nella prossima puntata il generale Sasanide invece anche lui verrà privato di ogni carica e imputato del fatto di aver fallito nella spedizione quindi non essere riuscito ad aggredire l'impero e di aver perso così tanti uomini ormai la guerra si stava trascinando siamo nel 532 d.C i romani continuano ad avanzare richieste di pace Cavad ne respinge e l'ultimo tentativo da parte dei persiani di vincerla questa guerra avviene contro la fortezza di Martiropoli contro cui i persiani mandano un esercito che la mette sotto assedio incaricato della sua difesa questa volta era Sitta Magister Militum per l'Armenia il quale però si trova ad avere a disposizione troppe poche truppe per difendere la città città le cui mura non erano completate che mancava di rifornimenti mancava di macchine per la difesa dall'assedio e che quindi sarebbe potuta cadere Sitta però aveva un asso nella manica aveva una spia all'interno dell'accampamento persiano una spia che gli riferì che i persiani avevano contrattato con gli unni per l'arrivo di truppe che potessero rinforzare il loro esercito una spia che Sitta convinsa a portare all'interno dell'accampamento persiano la notizia che quegli unni erano stati pagati dai romani e che sarebbero sì arrivati sul campo di battaglia ma per combattere contro i Sasanidi e non insieme a loro non sappiamo se fu questa notizia a convincere il generale Sasanidi a levare le tende o la notizia arrivata invece dall'impero stesso che faceva sapere che l'imperatore Cavad era morto e che in effetti a succedere gli era stato Cosdroe così come richiesto ma la sua successione era abbastanza disputata quindi insomma c'era necessità di truppe fatto sta che alla fine il generale decise di levare le tende tornare nell'impero e salvare in questo modo Martiropoli siamo nella primavera del 532 ormai entrambi gli imperi hanno altro a cui pensare entrambi gli imperi non possono continuare la guerra e così si decide di giungere ad un accordo le trattative di pace non furono velocissime anche perché il Cosdroe si era posto sul Tigre aveva posto lì la sua la sua sede proprio per le trattative ma Giustiniano non si mosse invece da Costantinopoli e la cosa richiedeva che per certe decisioni i delegati facessero avanti indietro alla fine dopo una serie di proposte e controproposte ci si accordò per una specie di via di mezzo i romani avrebbero mantenuto le loro fortezze pur impegnandosi a non costruirne altre poi non andò proprio così ma pazienza e avrebbero mantenuto anche il controllo delle fortezze nella zona della Lazica che erano riuscite a conquistare in cambio avrebbero però fornito ai Sasanidi un pagamento in denaro che ufficialmente sarebbe servito per pagare la difesa delle porte di Alessandro e soprattutto avrebbero restituito le altre fortezze in Armenia come segno di buona volontà poi la nuova sede del Dux Mesopotamia e quindi del comandante delle truppe Mesopotamia non sarebbe più stata Dara ma una qualunque altra fortezza come dire vi dimostriamo che non abbiamo intenzione di attaccarvi a breve quella pace sarà chiamata pace eterna ma c'era questa tendenza a dire non ci faremo mai più guerra con questa guerra con questa pace abbiamo finalmente siglato un accordo e sarà festeggiata da entrambi i popoli come una vittoria Cosroe dirà di essere riuscito a farsi pagare il denaro che già il padre aveva voluto dai romani Giustiniano dirà di essere riuscito a fermare i persiani e aver mantenuto le sue fortezze entrambi la festeggeranno come una vittoria la pace eterna però durerà solamente otto anni perché nel 540 ne parleremo tra qualche puntata i persiani torneranno a bussare alla porta dell'impero un impero che all'epoca sarà impegnato in altri scontri invece in occidente cosa che porterà ad una guerra molto molto più lunga molto più difficile e molto più sanguinosa ma ripeto ne parleremo tra qualche puntata perché la prossima puntata lasciamo l'oriente e ci spostiamo invece in occidente non ancora in Italia perché prima dobbiamo seguire il nostro generale Belisario che dopo essere tornato a Costantinopoli dopo essersi rimesso in mostra durante la rivolta di Nica ne avevamo parlato in una vecchia pidola ve la metto in descrizione magari la inserisco anche nella playlist in modo da avere poi un proseguo dopo essersi messo in mostra nella rivolta di Nica sarà spedito in occidente in Africa nell'attuale Tunisia a riconquistare quella provincia per Roma strapparla al regno dei Vandali nella prossima puntata che sarà domenica quindi tra due giorni racconteremo la guerra vandalica in attesa di tutto questo io vi ringrazio come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi il mio ringraziamento va a Tommaso grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco ci delenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con la nuova pidola di storia a presto ciao ciao ciao